Ciao qui è Joe, seduzione attrazione e nel video di oggi rispondiamo a domande delle vostre domande che ci sono arrivate. La domanda è questa. Dopo aver concluso un primo appuntamento, aperta parentesi, ragazza conosciuta tramite approccio a freddo, è importante che sia lei a cercarci o dobbiamo sempre essere noi? Puoi fare un chiaramento abbastanza specifico? Sai, non vorrei perdere valore. Allora, ho già risposto a una domanda simile, ti lascio il link qui in descrizione di modo che tu possa guardare il video per quella che riguarda la parte tecnica. Per quanto riguarda invece la gestione della messaggistica, cioè per fare le mosse corrette che ti aiutino a non perdere valore, c'è, ti ricordo, metodo messaggi e anche di questo ti lascio il link in descrizione così che tu abbia tutti i pezzi del puzzle. Detto questo, ragazzi, dovete capire una cosa che è molto importante che voi capiate ai fini di quella che è la vostra comprensione di queste dinamiche. Quando vi viene insegnata questa roba, vi si spiegano un sacco di modalità, di comportamenti, eccetera, eccetera, di tecniche per far sì che voi non perdiate valore agli occhi della ragazza, perché quello che naturalmente fa un uomo che non è capace a fare questa roba è andare a cadere in un sacco di atteggiamenti che in realtà gli fanno perdere valore. Però, 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 non dovete iniziare a pensare che qualsiasi cosa voi facciate state perdendo valore, soprattutto quando parliamo di escalation e, in un qualche modo, se tu così vuoi considerarlo, mandare un messaggio a una ragazza dopo quello che è il vostro appuntamento è comunque un modo, in un certo qual senso, di fare escalation. Ovviamente non parliamo di escalation fisica, ma di un escalation che fa sì che le cose accadano dall'approccio fino al sesso. Quindi, per fare le cose in maniera corretta, cioè in maniera che non ti faccia perdere valore, ti ho lasciato i due link in descrizione tu, puoi consultarli. Però è importante che iniziate a capire a livello di mindset che fare le vostre mosse da uomini, dall'approccio al sesso, per far avvenire il sesso non vi fa perdere valore. Ora, se accade che la ragazza è la prima a cercarci, questo è assolutamente un segnale positivo, perché significa che abbiamo quel livello di attrazione nei suoi confronti per cui lei effettivamente ci sta aiutando, è come se fosse in team, per così dire, con noi, per far sì che il sesso avvenga, purché voi non facciate puttanate durante il processo. Però non perdete valore se voi semplicemente fate quello che è il vostro lavoro di uomo. In ogni caso, tanto per farti capire un po' come funziona il perdere o non perdere valore nel momento in cui lei non è più a contatto con te, tu fondamentalmente perdi valore quando messaggi in maniera socialmente incompetente, quando lei ci mette i, come dire, suoi tempi a rispondere, tu sei lì come un avvoltoio sul telefono, quando lei scrive due righe e tu le scrivi un poema, o insomma, giù di lì, a livello di investimento nella dimensione dei tuoi messaggi rispetto ai tuoi, e quando in generale, appunto, tramite i messaggi o tramite l'uso di emoticons o tramite l'uso di punteggiatura, eccetera, 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 il tuo livello di investimento è maggiore rispetto a quello della ragazza. Ma in generale questa domanda nasconde due possibili problemi. Primo, se a te capita spesso che le donne non si facciano mai sentire a seguito di quello che è il tuo primo appuntamento, significa che c'è qualcosa di sbagliato nella gestione dell'appuntamento stesso, perché quando tu diventi competente nella gestione dell'appuntamento su base statistica capiterà che le donne si facciano sentire, o comunque siano loro a mandarti un primo messaggio. Non tutte, ma qualcuna lo deve fare. Finché non raggiungi questo punto gli appuntamenti non sono abbastanza puntino, francamente. Se tu vuoi approfondire come fare un appuntamento nella maniera corretta, ti ricordo che c'è tecniche di soluzioni avanzate e ti lascio il link qui in descrizione. Il secondo problema, te l'ho già stolineato, ma è di mindset. Dovete iniziare a capire quella che è la differenza fra il vero perdere valore e il fare quelle che sono le vostre azioni da uomo per farsi di far progredire quella che è l'interazione. Se fai quello che ti ho detto in questo video, stai tranquillo, non perdi valore. Ehi, fermo lì. Prima di andartene, ricordati di iscriverti al canale e di andare a guardare subito i video gratuiti che ho creato per te sulla seduzione via messaggi. In questi video ti mostrerò vari screenshot di chat commentate passo passo dove ti mostro come sia possibile portare ad appuntamenti ragazze che inizialmente non rispondono ai tuoi messaggi e trasformarle in ragazze che non vedono l'ora di uscire con te. Clicca il link in descrizione per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.